Il futuro della geotermia è al centro dell'incontro organizzato da Confapi e sindacati a Pomarance. All'incontro ha partecipato anche il presidente della regione toscana Enrico Rossi, che ha annunciato che a febbraio il governo conta di approvare il decreto che reinserirà la geotermia tra le fonti di energia rinnovabili che possono accedere agli incentivi. Un provvedimento che regione e territorio aspettano da due anni. Ma non solo, il presidente Rossi ha anche annunciato pacchetti finanziari in grado di aiutare tutto il settore geotermico. Il governo ci mette in condizioni di riprendere a lavorare. Si faccia presto, noi ci siamo già nella prossima settimana, ci incontreremo con gli imprenditori, sindacati, proprio per decidere da farsi. Io non escludo che si possa chiudere la legislatura anche con due provvedimenti. Uno è la trasformazione del consorzio Cosvig in una vera e propria agenzia per lo sviluppo di queste aree e l'altro anche la dichiarazione di queste zone come un distretto geotermico in modo che tutti i soggetti interessati allo sviluppo della geotermia possano avere la possibilità di confrontarsi fra loro. L'industria geotermica dà lavoro a circa 5.000 persone, suddivise tra i 14 comuni dell'area. In questa rinnovata collaborazione fra istituzioni e corpi sociali rappresentativi dei lavoratori come delle imprese io penso non vi possa essere dubbi che per quanto riguarda l'Enel è necessario sempre più investimenti, per quanto riguarda il governo è necessario rinserire a pieno titolo questo distretto geotermico nei finanziamenti che ne possano intravedere un bel futuro, che poi è un futuro per tutti. Un territorio che vive grazie al comparto geotermico e la regione vuole cominciare da subito a discutere del dopo 2024 quando scadranno le concessioni per lo sfruttamento geotermico.